Un antico augurio cinese recita più o meno così e in Cina si sente spesso. Le auguro di vivere in tempi interessanti. Sì, e in tempi interessanti ha certamente vissuto e vive il personaggio che stiamo per incontrare, ma lei ha messo una condizione di tipo esistenziale. Io viverò senza filtri, io fonderò tutto quello che creerò, dirò, racconterò, insegnerò sulla spontaneità e probabilmente la spontaneità è una caratteristica umana che è spesso molto sottovalutata. Quindi state pronti, perché fra poco Mara Maionchi ci regalerà un passaggio di prima classe, di solo andata, sulla sua sorprendente immaginazione esistenziale. Prologo. Prologo. Il mondo senza musica sarebbe? È bruttino, la musica è importante. Ma te ne senti, visto che anche tecnicamente il tuo lavoro? Ma devo dire adesso ho un po' smesso, faccio un po' fatica a ritrovarmi, perché la musica è cambiata tanto, è cambiata il modo di farla, è cambiata il modo di dire, per cui sono un po' più in difficoltà. Molte volte vado un po' indietro nel tempo, dove in effetti ci sono stati dei periodi che avessero piaciuti di più. Ma però sai, i periodi passano, tutto cambia. Anch'io sono cambiata. Allora, la nostra storia ha un incipit folgorante, che se uno si mettesse lì a crearlo difficilmente ci riesce. Tu, il Corriere della Sera, nel 1967, lo stai sfogliando? Cercavano una segretaria per l'ufficio stampa, io mi sono presentata e il capo, che era il proprietario della società Ariston, mi ha assunto. Come fai a entrare come segretaria e diventare in uno spazio di un anno e mezzo la direttrice della comunicazione? Questo non lo so neanche io, cioè si vede che facevo ridere il signor Rossi, che era il proprietario. Basta far ridere il signor Rossi? No, no, riuscivo a rompere le scatole abbastanza bene, i giornalisti diventavamo amici, facevano qualche articolo per il mio artista, eccetera. Nella tua storia ho sentito dieci volte dire, oh, arrivava e in qualche modo sembrava che lei sapesse di noi più di noi. Un discografico dice, e questa qua chi è? Perché ha detto una cosa che magari noi qua non abbiamo pensato? Lei viene dal nulla, dal nostro punto di vista, e invece sa dire una cosa che ci aiuta. Ma guarda, io devo dirti che poi c'è un destino, perché io certe volte ho fatto delle cose che ha istinto, e per cui l'istinto era guidato neanche tanto dal ragionamento. Non avevo motivo di ragionare sul successo di un ragazzo che non sapeva scrivere le canzoni di un'altra peggio che peggio. Voglio dire, però avevano qualche cosa che avevano colpito la mia fantasia, per cui secondo me bisognava lavorare su quello. Tu sei una da riposizionamento per un artista? Cioè, con la tua comunicazione dice a un artista, io farei così. Non è che devi dire fai questo, fai quello, no. Tu devi dire questo, 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 sì, carino. Cioè, tu fai solo da specchio. Cioè, devi tirar fuori quello che è, oppure far finta, perché alcuni fanno anche finta di essere quello che sono. Delle dieci cose che Mara ha fatto per l'umanità, nel senso musicale, musicale italiano. No, no, cito una persona che me l'ha detta. Le devi assolutamente chiedere di come ha procurato a Ornella, Vanoni, la copertina su gente. Perché lì dice, è tutta la cifra, hai la cifra della Mara. Si era messo in testa che voleva sta copertina su oggi, insomma. Oggi. Oggi, oggi. Loro ho deciso di andare dal povero Buttafava, che era allora il direttore. Insomma, morale, mi sono seduta fuori, sono stata fuori ad aspettare. Finché lui è uscito, mi ha detto, gliela faccio sta copertina, basta che vada via. Prendiamo questi magnifici 80 anni della tua vita, andando avanti e indietro nel tempo, che percezione hai del tempo? Io certe volte faccio come se il tempo non fosse passato, poi improvvisamente mi rendo conto che invece il tempo è passato e mi accorgo da tante cose. Mi accorgo da come mi fa male il ginocchio, ascolto delle canzoni che di primo a chitto non capisco, allora mi intestandisco ad ascoltare, perché se fanno successo, un motivo ci sarà. Non è che io sono il Padre Eterno che decido. Io credo che qualcuno che fa successo in tutti i tempi abbia qualcosa da comunicare a quelli che fanno parte di quel tempo. Chi è che ha avuto più influenza di tutti su di te? Beh, non c'è dubbio agli artisti come Giulio, Galla, De Gregori, cioè sono stati i più importanti della mia storia. Quando è che il genio, che tutti dichiarano, chiamarsi Mara Maionchi che si è imposto in un mondo maschile e va per la prima volta a Sanremo? Ma sono arrivata con la Vanoni che faceva la musica finita e che tutto il giorno mi diceva non mi ricordo il testo, non mi ricordo il testo, ma non ti ricordi il testo, allora l'abbiamo scritto sulla mano. L'avete scritto sulla mano? Sì, però lei si sentiva tranquilla, è andata, è andata benissimo, il pezzo poi è rimasto per tanto tempo. Lì ho conosciuto Nisa che era l'autore del testo, che poi io ho sposato il figlio di Nisa, appunto. Il Salerno. Il Salerno, Don Alberto. Teniamo le distanze perché non si ha il suo cognome. Lo incontro all'Ariston nel 67, viaggiava lì perché era un autore, scriveva le canzoni eccetera eccetera. Allora ho parlato con il Salerno, adesso ti sorprendo e dici no beh l'avevo vista, all'inizio c'è anche la differenza di età. Ammassa dieci anni. C'è anche la differenza di età, poi piano piano comincia a crescerti dentro perché ti accorgi che questa qua sta bene al mondo. Dà l'impressione di essere una donna realizzata, felice, intensa, che se la mangia la vita. Io ero un po' molto preoccupata perché questi dieci anni, capito, lui aveva 25, io 35. Poi mia madre mi disse ma sai, al fine cosa ti importa te, è lui che la prende vecchia, che mi è sembrato un ragionamento giusto. Perché c'è anche la mamma della Mara che qualche cosa avrà inciso sulla Mara. E mi vietta la sanguinaria. Sì perché mia madre era una donna che si sapeva difendere molto bene per cui… Da tutti i punti di vista. Da tutti i punti di vista e infatti ci ha lasciato a 99 anni perché si era stufata. Tu secondo me dimostri una certa semplicità di fondo che secondo me parte della tua vitalità. Beh, o sei un genio, se no la verità di fondo è quella lì. Cioè voglio dire, non vedo… Forse un grande poeta, un grande scrittore, hanno delle qualità interiori, micidiali, io non ce li ho, sono rasa. Tu ti sei comportato in televisione esattamente come ti eri comportata nel resto dei tuoi giorni. È certo, e se no cosa fai? Chi faccio? Chi fai? Se non me. Il talento incontra l'opportunità. È certo. Poi stai in televisione e a questo punto diventi un volto… Io ho pensato che la prima volta che ho detto una parolaccia mi mandavano a casa. Beh, allora… Beh, allora mi dovevano mandare a casa un giorno sì, un giorno no. Però adesso mi contengo un po', eh. Sono diventata grande e mi contengo un po'. Ti hanno preso perché eri una discografica? Sì, facevo un provino dove eravamo tanti discografici per vedere come ci saremmo comportati. Purtroppo esce una ragazza carina, ci saluta. Adesso io canterò un pezzo di un artista che molti di voi non conoscono, ci fa una filippica di dieci minuti su questa rottura di male. Canto e canto un pezzo di Jenny Joplin. Allora lì mi sono offesa. Per cui gli ho detto senti, ma tu pensi che noi siamo così ignorati, ma vergogna dai, un po' di rispetto, eh. Allora lui disse lei e facciamo la Simona, io e Morgan. C'è una frase che qualcuno ti ha detto che ti ricorderai per sempre? Quando le mie figlie mi fanno arrabbiare mi viene in mente solo ti voglio bene. Mi piace quella roba lì di sentirmi di ti voglio bene. Alla fine invece secondo me la frase più spettacolare di questa conversazione è ancora quella della sanguinaria che fa è un problema suo. Eh beh è un problema suo. Ti prende vecchia lui, non mica è un problema tuo. Eh no, certo. Quella lì di tutte quelle che ti hanno detto secondo me è quella che ha funzionato di più. Eh certo. Alla fine l'abbiamo tirata fuori la frase chiave. Eh beh ma è vero che è un problema suo. Infatti è stato un problema suo. Che è andato abbastanza bene, almeno per il momento perché non si può mai dire cosa può succedere. Vabbè dai, posso dirti una cosa? Ti voglio bene. Ah 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 ah. Grazie. Grazie a tutti.